Lo sapete cos'è questa? La schedina di formulissima Agip. Che ci faccio con questa? Vinco mille litri di benzina. Come con questi? I primi cinque piloti che arriveranno al Gran Premio. Quale Gran Premio? Quello che sta per cominciare. Il prossimo Gran Premio di Formula 1. Puoi vincerlo tu. Controlla la schedina.